Che l'anno scolastico sia virtualmente concluso, perlomeno per quanto riguarda le attività didattiche in presenza, è ormai molto probabile, anche se per la verità è bene ricordare che per il momento sulla carta la chiusura delle scuole dovrebbe cessare sabato 2 maggio. Resta il fatto che a questo punto il dibattito si è spostato dal come concludere l'anno a come iniziare il prossimo. Intanto bisogna dire che proprio oggi, 16 aprile, presso la Commissione Cultura del Senato inizia l'esame del Decreto Legge 22, approvato dal Governo una decina di giorni fa. Decreto che all'articolo 2 prevede che il Ministro debba emanare un apposito provvedimento per definire la data di inizio delle elezioni del 2020-21 ed è su questo che si stanno già accavallando le ipotesi. C'è chi parla di un avvio leggermente ritardato rispetto agli anni passati in modo da consentire la conclusione delle operazioni di assunzione, così da avere docenti al loro posto con l'inizio delle elezioni. Ma ci sono anche associazioni professionali e non che propongono di iniziare le elezioni a metà ottobre e di dedicare il periodo dal 1 settembre a quella data per recuperare le lacune accumulate nel corso del 2019-2020. Quello del recupero non è però l'unico problema che si dovrà affrontare. C'è per esempio il tema del cosiddetto distanziamento. I tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità hanno già detto che non si potranno avere 25-30 alunni in un'unica classe ed è per questo che molti stanno già pensando a soluzioni di emergenza come i doppi turni. Si divide cioè la classe a metà in modo da formare gruppi più piccoli. Ma se gli organici restano gli stessi sarà inevitabile ridurre l'orario scolastico e così si potrebbe andare a scuola solamente 3-4 ore al giorno oppure 3 giorni alla settimana. Questo comporterebbe però problemi sociali di non poco conto. Se le attività lavorative riprenderanno prima di quelle scolastiche come potranno organizzarsi le famiglie con bambini in età di scuola primaria e dell'infanzia e con genitori che lavorano entrambi? Senza trascurare i problemi che comporterebbe il dover gestire gli spostamenti di milioni di studenti, genitori, personale scolastico tutti concentrati al mattino prima dell'inizio delle lezioni o a fine mattinata o a metà pomeriggio. Ed è per questo motivo che tanti pensano che per affrontare la situazione potrebbe essere necessario attivare un vero e proprio patto educativo che coinvolga enti territoriali, associazioni culturali e sportive, organizzazioni del volontariato che in stretta collaborazione con la scuola possono promuovere iniziative di carattere cooperativo per bambini e famiglie. In questa direzione va per esempio il parere del pedagogista Raffaele Iosa, ex ispettore tecnico che proprio nei giorni scorsi ha rilasciato una intervista in tal senso alla nostra testata. E c'è poi il problema gigantesco della didattica a distanza. Molti ritengono che il prossimo anno scolastico non sarà possibile garantire il diritto allo studio con la sola didattica in presenza e che per questo motivo è bene iniziare a pensare fin da ora ad un sistema misto, soprattutto per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado. In tutto questo non bisogna dimenticare infine che secondo le organizzazioni sindacali i molteplici problemi che si stanno ponendo vanno affrontati in modo sistemico, con investimenti importanti, con regole contrattuali nuove, ma che garantiscano i diritti del personale della scuola. Il tema di cui stiamo parlando, come ben capite, è un tema particolarmente caldo. Continueremo ad occuparci anche nei prossimi giorni. Voi continuate quindi a seguirci su questo canale, ma anche sulla nostra testata www.tecnicadellascuola.it Soprattutto continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni e i vostri commenti noi ne daremo conto come al solito. Grazie. 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 Grazie.